Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia tutti quanti un culo così! Ogni matrimonio si fonda sul tradimento. È possibile che non sia mai caduta in tentazione? No. È una questione di forza e di volontà. Quella è etero, ci sono stato? No, quella lì è lesbica. È etero? Lesbica! E se fosse bisexe? Ma che faccio, bro? Ma sei scemo! Lo sai che vi assomigliate tantissimo? Maschilista porco? Fricchettona frigida. Un uomo? Un uomo a 40 anni diventa interessante. Una donna quando arriva il primo cappello bianco inizia l'inferno. Certo! Magari ci sentiamo! Anche io ti amo. Bezzo! Io penso che il tuo pisello sia andato in pensione anticipata. Voi donne siete troppo superficiali. È possibile che ci avete in mente solo quello? Punto primo. Quando tradisci? È per una botte via! Punto secondo. mai avere una storia con una donna che tua moglie conosce. Di cosa stavate parlando? Non succederà più.